Se mesi dopo il terzo anniversario della tragedia di Rigopiano, i familiari delle 29 vittime sono tornati a riunirsi per un momento di preghiera, partecipando alla celebrazione eucaristica ufficiata dal parroco di Farindola Don Luca di Domizio sul piazzale antistante ai resti dell'hotel. Esatto, sì, dopo oggi cade proprio tre anni e mezzo dalla tragedia di Rigopiano e siamo qui tutti uniti per ricordare i nostri cari. Oggi è una giornata del ricordo per noi familiari. Puntualmente ogni anno ritorniamo qui e chiediamo sempre alla procura il permesso per poter accedere all'area che ricordo ancora è sotto sequestro. Quindi c'è bisogno di un permesso particolare, speciale appunto per noi per poter appunto celebrare questa messa al ricordo delle 29 vittime e per ritrovarci tutti quanti insieme. In mattinata alcuni parenti delle vittime hanno partecipato ad una camminata recandosi sul monte Siella, da dove il 18 gennaio 2017 alle ore 16.48 si staccò la valanga che colpì e rase al suolo l'hotel Resort Gran Sasso Rigopiano nel comune di Farindola, mettendo fine alla vita di 29 persone. Beh, è la natura. Abbiamo visto la natura, abbiamo visto la forza, abbiamo visto, ci hanno fatto vedere ovviamente fino a che punto è arrivata la valanga. Si parla di 30-40 metri, quindi una massa nevosa enorme. Ed era inevitabile la natura far il suo corso. Purtroppo forse era evitabile che c'erano dentro 29 persone. Abbiamo capito che si potevano salvare come? Mandando i soccorsi, non dimenticandoli qua. Non dovevano dimenticarli qua, ce ne sono dimenticati, totalmente dimenticati. La passeggiata è stata ovviamente un momento di raccolta tra nuovi parenti, un momento di... Trovi anche l'energia perché c'è qualcosa qui, in questa parte dove stanno i nostri cari. Noi sono rimasti qua, per me sono rimasti qua, sono qua. Quindi stiamo più vicino a loro, salendo sopra, portando un fiore là sopra. Siamo presenti, facciamo dire la nostra vicinanza. Questo è quello che noi riteniamo opportuno di fare, ci fa sta meglio a noi. Da domani si tornerà a pensare al processo, che tra un rinvio e l'altro deve vedere concluse ancora le fasi preliminari. Noi vogliamo rimanere estranei ai fatti, non vogliamo giudicare, vogliamo soltanto che si celebra il processo. Non vogliamo vedere queste litigate tra i corpi. Chiaro che, da parente delle vittime, mi faccio delle domande perché questa situazione, per quale motivo tutte queste anomalie nel sistema, perché tutte queste menzogne. Però non c'è da confondersi, perché qui si parla di un'altra cosa. Noi cerchiamo la responsabilità di chi ha ucciso i nostri cari. Lì hanno occultato chi ha ucciso i nostri cari. Quindi sono due facende completamente diverse. Noi chiediamo ovviamente che vengano giudicati gli imputati responsabili. Poi dall'altra parte è pure giusto sapere il motivo perché hanno occultato le famose telefonate di D'Angelo.